Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video apriamo le Lore Surprise Glam Glitter si che bello aspettate che si stiamo un po' eccoci allora si che bello per questa meravigliosissima apertura di oggi andiamo a presentare il nostro pubblico fantastico ragazzi ma quanto mi piacciono a me le Lore Surprise Glam Glitter mi piacciono tantissimissimo va bene andiamo a presentare il pubblico di oggi allora abbiamo la nostra pasta e l'unica si ciao poi gli va presso Maria Antiglia Stasi ciao non ho detto niente c'è un po' e poi abbiamo la nostra new entry Princess Lodge che bello scattare le Lore l'hai visto quanto è bello? penso che tu eri un mostro prima ciao era una monster lol adesso è diventata la principessa e c'è pure la fortuna di aprire le Lore insieme a noi pensa un po' te va bene andiamo avanti poi abbiamo Alice ciao 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 beh lei con le Glam Glitter non può mancare perché è la mia preferita per adesso delle Glam Glitter mi piace tantissimo per cui lei c'è sempre quando apriamo le Glam poi chi li va presso? Sugar quanto è bellina si ci piace con la canzoncina pure lei si presenta con la canzoncina poi abbiamo It Baby la new entry si che bello ma quanto sei bella It Baby si lo so grazie bene e poi Dulcis in fundo Unicorn l'ho desiderata talmente tanto ragazzi perché lei ci sarà sempre 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 ciao Unicorn ciao va bene dopo tutta sta cagnara passiamo al momento checklist allora momento checklist abbiamo Sugar Coconet che non so se la rivedrete più però può essere che ce la porteremo un giorno come pubblico non lo so It Baby ce l'abbiamo e abbiamo Alice ne abbiamo una due tre quattro ce ne mancano ancora un bel po' innanzitutto ah si poi vogliamo Kitty Queen assolutamente ma una rara possiamo trovarla non dico una rara una una rara possiamo trovarla vogliamo Spice Neon Brr BB e Kitty Queen non mi serve di chiedere troppo quante ce ne mancano una due tre quattro cioè voglio dire ce la possiamo anche fare intanto facciamo il sortilegio qua non vogliamo coconut non vogliamo coconut grazie non vogliamo coconut capito pallina niente coconut va bene Tamara è finita che fa cagnara si andiamo con l'apertura sugar ah 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 oh honey honey nanny 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 you are my candy girl and you got me what you do aspetta un po' aspetta un attimo perché io sono ciecata lo sapete ormai lights camera action oddio lights camera action non è che mi fa cioè non lo so cosa devo pensare di lights camera action ragazzi c'ho paura veramente veramente paura va bene andiamo avanti con l'apertura ma perché a me mi sembra di averlo già trovato quel quell'indizio lì però è anche vero che è passato un bel po' di tempo e non mi ricordo non lo so ragazzi non lo so mi sta venendo l'ansia la bolle nera per cui non è una rara e questo è capito benissimo già anche dall'indizio se l'ha capito i nostri adesivi andiamo avanti che è l'apertura qui abbiamo il nostro primo sacchettino e abbiamo il nostro biberon mamma mia speriamo che non è una che abbiamo già uffi andiamo a vedere tramara aspetta prima di non lo sei ancora ho capito però sai dove è l'altro sacchettino eccolo qua e poi e poi e poi ultimo strato ok e qui abbiamo il vestitino niente ragazzi andiamo a vedere cosa abbiamo trovato arrivo subito ecco mi sono andata a soffiarmi il naso perché ragazzi con i primi freddi arrivano anche i raffreddori va bene andiamo dell'apertura eccoci qua abbiamo la lol abbiamo aia aia ragazzi aia 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 questa ce l'abbiamo già mannaggia eh sì 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 questa ce l'abbiamo già vabbè vi dico subito che credo sia Alice ma niente la metterò la metterò in vendita sul gruppo o o la scambio aspetta ma qua dentro cosa c'è beh ma aspetta 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 perché non lo so eh sì Alice già si capisce no che Alice si è capito benissimo che Alice diamante da l'apertura lo stesso dai beh una ci stava doppia eh ti può andare sempre bene Tamarinda il vestitino però è sempre fantastico mi piace tantissimo a me Alice poi abbiamo il suo cerchietto bellissimo le scarpine ah erano le scarpine queste che non si capivano bene che cos'erano eccole qua le scarpine che belline io guarda Alice è una delle mie precedenti e rimane la mia preferita Alice ma l'ho trovata doppia ma guardate quanto è bella ragazzi no vabbè io questa per me rimane la mia preferita questa è quella che ho io questa c'è i bombone in testa però è più più sbrilluccicosi sì 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 quanto è bella ragazzi è troppo bella a me questa veramente non so quante volte ve l'ho detto vi sarete anche stufati di sentirlo ma rimane la mia preferita in tutto e per tutto guardate quanto è bella è meravigliosa Alice sì 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 ci piace proprio proprio tanto tanto però adesso basta Alice adesso l'ho trovata un'altra volta mi piaci tutto quello che vuoi ma anche basta cioè sono più felice di aver trovato te che connet per carità ma non facciamo l'abbonamento grazie perché l'abbonamento l'avevamo fatto al tempo per teacher's pet e ci è bastato amore ok cerchiamo di anche basta ok grazie è bellissima comunque ragazzi è bellissima bellissima la nostra Alice poi la glitter già è bella di suo poi glitterosa ancora di più va bene ragazzi io vi saluto con le mie gemelle Alice la metterò in vendita sul gruppo e alla prossima ciao 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 ciao